Musica Amici di Telepace, bentrovati a questo nostro quotidiano appuntamento dedicato all'Odigiano. Momento che apriamo parlando della scomparsa avvenuta ieri mattina a Bergamo di padre Evaldo Giudici, confessore per 40 anni nella parrocchia dei Capuccini di Casal Posterlengo. Il funerale sarà celebrato domattina alle 10.30 nella chiesa di Onisanti del cimitero di Bergamo. Il vescovo di Lodi, Monsignor Malvestiti, celebrerà una messa di suffragio domenica 9 al santuario di Casale. Nato a Villamaggiore il 4 luglio del 31, entrato nei frati Capuccini della Lombardia, dopo essere stato ordinato sacerdote, padre Evaldo è stato prima missionario in Brasile, quindi è giunto a Casal Posterlengo dove è stato confessore per 40 anni, autore di un libro sul santuario, di due opere su padre Carlo da Biategrasso, di cui era vice postulatore della causa di beatificazione. Adesso vi proponiamo una riflessione, quello che è divenuto un appuntamento fisso nel corso della settimana, una riflessione proposta da Don Guglielmo Cazzolani. Si dice che i bambini ebrei quando si svegliassero avevano tre domande a cui rispondere ed erano tre domande che dovevano guidare la loro giornata. La prima domanda era un invito alla laboriosità. Questa domanda suoni in questa maniera, se non ora, quando? Affrontiamo un nuovo giorno, affrontiamo nuove situazioni. La prima risposta sempre che dobbiamo avere è non rimandare mai l'impegno, per cui se non faccio adesso, se adesso la mia esistenza non diventa attesa ad affrontare qualche problema, quando mai potrò modificare una situazione, una realtà? La seconda domanda era ancora più pregnante perché diceva se non io, chi altri? Questo è un grande invito alla responsabilità. Cioè davanti ai problemi della vita, davanti alle situazioni che esigono una risposta, se non sono io la risposta a quell'interrogativo, se non sono io colui che si impegna per modificare la situazione, chi altri lo farà? Questo è il grande invito per tutti quanti noi, a essere sempre responsabili, a non scaricare su altri l'impegno di dover cambiare, mutare qualche situazione, ma di mettere sempre la nostra faccia davanti perché siamo noi la prima risposta che deve esserci davanti ai problemi del mondo. Ma la terza domanda, la terza domanda è sicuramente la più impegnativa a cui rispondere, la domanda che scuote ogni uomo, suona così, ma se lo faccio solo per me stesso, chi sono io? Se tutto il mio impegno in fondo fosse mosso unicamente dal mio io, da motivo egoista, il mio io non è un motivo bello per cui impegnarsi nel mondo. Ecco, credo che questa sia la grande domanda che apre il cuore di ogni uomo, non trovare mai delle motivazioni che siano delle motivazioni egoistiche, ma la grande fortuna è trovare nella esistenza un progetto, un carisma, qualcosa che ci salvi finalmente da noi stessi e ci faccia trovare un motivo per cui vivere che è un motivo bello. Parliamo adesso del consigliere regionale Pietro Foroni, il quale ha annunciato di aver appreso con favore della proposta formulata dai centri di aiuto alla vita di Lodi e Sant'Angelo, ovvero quello di creare sportelli ad hoc presso i plessi ospedalieri per fornire un supporto a donne incinte in grave difficoltà al fine di evitare forme di interruzione di gravidanza. Foroni ha aggiunto di voler presentare iniziative consigliarie al Presidente Maroni affinché divenga reale e concreta non solo nell'Odigiano questa realtà, ma anche negli altri ospedali lombardi. Ricordiamo che nel nostro territorio, secondo quanto evidenziato dei centri di aiuto alla vita, si è arrivati a oltre 550 aborti con una media di un aborto ogni quattro bambini nati. Molte delle donne che chiedono di abortire lo fanno perché sono in crisi economica, dicono dai centri di aiuto alla vita. Da qui, per offrire un servizio di supporto a queste donne in condizioni così difficoltose, è nata l'idea proposta dei centri di aiuto alla vita e dell'Associazione Maria Madre della Providenza di inoltrare una proposta perché vengano creati questi sportelli nei plessi ospedalieri del nostro territorio. Cambiamo genere di argomento con il prossimo servizio. Parliamo della Cattedrale Vegetale. Si tratta di un'opera d'arte importante che doveva essere realizzata in vista di Expo. Poi ci sono stati problemi. Abbiamo chiesto all'assessore Ferrari di aggiornarci sull'andamento dei lavori. Avrebbe dovuto essere uno dei fiori all'occhiello di Lodi per Expo ma ci sono stati problemi. Stiamo parlando della realizzazione della Cattedrale Vegetale, opera monumentale ispirata dall'artista lodigiano Giuliano Mauri. Una difficile bonifica, altri contrattempi hanno impedito che per l'esposizione universale l'opera fosse realizzata ma lo sarà, assicurano da Palazzo Broletto e l'assegnazione di lavori inizierà prima dell'estate. Per la bella stagione si confida nella sua realizzazione. È un grande progetto partito con Expo e che vuole svilupparsi e arrivare al termine con quest'estate. È l'opera più impegnativa da un punto di vista artistico che la città ha avuto negli ultimi decenni. È un'opera che vuole però rimanere come simbolo e come elemento in grado di attirare turisti da fuori il nostro territorio. Su questa opera abbiamo puntato molto anche nella raccolta di sponsorizzazioni private, di aziende, di imprenditori che hanno creduto in questo progetto che è impegnativo anche da un punto di vista tecnico della realizzazione ma darà un grande risultato in termini di immagini per la nostra città. Purtroppo per Expo non si è riusciti in tempo a poter avviare la cosa. Per quali motivi? Sicuramente i motivi sono legati alla complessità dell'opera. Noi abbiamo sempre detto che ci sarebbe piaciuto inaugurarlo durante i sei mesi di Expo. sapevamo però della difficoltà da un punto di vista tecnico di realizzare un'opera artistica in un'area difficile, un'area dove c'è il fiume Esonda e dove c'era un'azienda che aveva inquinato il terreno. E quindi pur avendo avuto la collaborazione straordinaria da parte di enti che dovevano autorizzare e fare delle verifiche di carattere tecnico ovviamente si sono avuti dei prolungamenti dei tempi. Però su questo siamo sempre stati molto sereni perché ritenevamo che quell'opera prescindesse anche un po' da Expo. È un'opera che rimane in città e che permetterà all'Odi di essere unica città in Lombardia ad avere un'opera così significativa. Cosa è stato fatto fino ad adesso? È stata fatta un'opera invisibile ma importante che è quella di rialzo dell'area che permette di mettere in sicurezza rispetto al fiume la cattedrale vegetale e proprio in questi giorni è stata uscita la gara per la realizzazione tecnica e fisica della cattedrale. Una volta completata l'installazione si presenterà come una cattedrale realizzata con rami e tronchi infissi nel terreno a costituire campate sul modello delle architetture gotiche per una struttura che complessivamente sarà lunga 73 metri larga 22 e alta 16. Restiamo all'Odi. Saranno in via 20 Settembre i viali in tagli e i primi cantieri stradali del 2016 interventi che prenderanno il via con il mese di aprile e quanto ha dichiarato l'assessore opere pubbliche del comune di Lodi, Sergio Tadi. Si tratta solo di uno stralcio del programma degli interventi stradali previsti per quest'anno e che verrà prossimamente definito nella sua completezza. Ad aprile si apriranno i primi cantieri di quest'anno per i lavori di manutenzione stradale con un investimento iniziale di 450 mila euro e una durata di circa tre mesi. I lavori interesseranno in modo particolare i via 20 Settembre nel centro storico di Lodi e Viale Italia. Il progetto è stato approvato dalla Giunta nell'ultima seduta del 2015 direttamente allo Stato esecutivo. In questo modo, spiega l'assessore alle opere pubbliche Sergio Tadi, potremo accelerare le procedure di gara per l'assegnazione dei lavori con l'obiettivo di avviare gli interventi in aprile. Anche le risorse economiche necessarie sono già disponibili senza dover attendere l'approvazione del bilancio di previsione per il 2016. Rispetto a un impegno di spesa complessivo di 450 mila euro, una quota di 300 mila euro è coperta da un contributo di linea distribuzione per il ripristino di strade che nei mesi precedenti sono state interessate da scavi per interventi sulle reti interrate di servizi, mentre i restanti 150 mila euro sono fondi propri di bilancio del Comune. L'intervento su Via 20 Settembre interesserà l'intero sviluppo dell'arteria da piazza ospitale fino a piazzale Medaglie d'Oro. In Viale Italia i lavori si concentreranno sul tratto compreso tra Via Zalli e Viale Lombardia. Nel quartiere San Bernardo sono previsti i lavori in Viale Piemonte e nel tratto di Viale Sicilia tra Viale Piemonte e Via Abruzzi ed è in programma anche un cantiere nei pressi di Cascina Sordina. In Viale Piacenza sarà inoltre riqualificata la pista ciclabile sul lato della careggiata verso il centro città. L'assessore Tadi ha poi precisato che questi lavori rappresentano solo uno stralcio dal programma degli interventi stradali per il 2016 che verrà prossimamente definito nella sua completezza. Ancora due brevi notizie. Il vento che ha caratterizzato anche la giornata odierna ha contribuito ulteriormente a mantenere al di sotto della soglia 20 il livello di inquinamento da polveri sottili nel Lodigiano contribuendo quindi a liberare l'aria dalla cappa di smog che ha oppresso il Lodigiano e non solo per molti giorni tra la fine dello scorso anno e l'inizio di questo. Dal fronte meteo sono previste temperature più fredde per il fine settimana con livelli tipicamente invernali. Sul fronte invece di prevenzione all'inquinamento e per la qualità dell'aria la regione Lombardia intende intervenire a cominciare dal prossimo mese di ottobre con il divieto di circolazione per i mezzi motore diesel Euro 3 e quanto ha detto l'assessore Claudia Maria Terzi a margine dell'incontro del tavolo aria si tratta dello strumento di consultazione istituzionale in materia di qualità dell'aria. Un divieto questo che lo ricordiamo è nelle intenzioni per il prossimo mese di ottobre interesserà alcuni capologhi lombardi e tra questi anche Lodi. Siamo arrivati così all'epilogo di questo nostro spazio dedicato alle notizie da Lodigiano. Grazie a voi gentili amici per averci seguito e arrivederci. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.